Passo il microfono ancora Valeria. E' un po' di amministrazione della scuola elementare. Questo è il suo primo concerto, devo dire che sei proprio bravo. Sono venuta a vedere perché da qua giù non ti bevevamo, ma ti sentivamo soltanto. Come occinianesi siamo proprio contenti che tu abbia deciso di offrire il tuo talento alla tua banda. Quindi grazie Fiorenzo e ti auguriamo tanti anni di banda. Grazie.